Si chiama Dave Perkins, è una persona che ama molto la pesca e si trova con i suoi due cari amici quando pensate che ha scoperto lui e i suoi amici di avere pescato uno squalo. Però soltanto dopo si sono accorti che era stato ucciso da un mostro degli abissi, il video è scioccante ed è incredibile. Una volta che hanno compreso quello che era successo, i tre hanno tagliato quindi la lenza, sono scappati via, sono rimasti letteralmente pietrificati, pensavano di trovarsi davanti a uno squalo vivo e vegeto che stava nelle acque e la terra è stato già ucciso, fatto fuori a largo della fornita, bene il sud, precisamente nelle profondità del parco delle Everglades. La vicenda ha creato ovviamente panico e una cronaca nera, se così può essere intesa, i tre hanno un contorno a squalo, squalo della pina nera che stava disturbando lo pesca, però sono stessa di ripetere dal terrore, dalla paura, perché sono tra l'avanti in realtà un mostro degli abissi, un mostronino. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Il mostro che aveva già uscito quindi fatto fuori proprio lo squalo in questione. Dalla pina nera, iscrivetevi, commentate e ciao.